Allora volevo suonare un brano di Bart Powell che è un pianista che potete vedere qua che lo tengo vicino che si chiama Allucinations e lui scrisse dopo che soggiornò per un periodo ospedale psichiatrico dove fu mandato in quanto Bart Powell è sempre avuto dei problemi a livello di adattamento alla società dell'epoca e quindi è stato poi classificato come anche malato mentale e nella sua travagliata esistenza documentata nel film Raoul Lin, bellissimo film di Tavernier che stava per vincere l'Oscar con Dexter Gordon viene raccontata questa storia che ha coinvolto molti musicisti jazz che sono stati internati negli istituti psichiatrici in America anche proprio come forma di repressione nei confronti della cultura afroamericana. Quindi questo brano si chiama Allucinations. Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon Allora volevo suonare un'epoca per vincere l'Oscar con Dexter Gordon